Dopo averlo ascoltato a Sanremo con Semplicemente Insieme ai Blue Vertigo, sabato prossimo vedremo Morgana ballando con le stelle nei panni di ballerino per una notte. L'anteprima di blogo è bollente dal momento che oltre al fatto che qualunque cosa faccia l'ex giudice di X-Factor riserva bene o male delle sorprese, allo show di Millie Carlucci partecipa a Asia Argento. La presenza di Morgana ballando con le stelle dunque potrebbe essere più delicata del solito. Il cantante e l'attrice, anche ottima ballerina, stando alle performance finora preparate insieme a Michael Fonz, hanno sempre avuto un legame particolare con alti e bassi e spesso la spiccata personalità di entrambi li ha portati allo scontro. La settimana scorsa il ruolo del ballerino per una notte è stato affidato ad Alessandro Del Piero che ci ha deliziati con un superbo tango, mentre all'esordio dell'undicesima edizione di Ballando abbiamo visto Valerio Scano. Da tempo si vociferava che Morgan potesse prendere parte alla giuria della trasmissione del sabato di Rai 1, che tra l'altro sta riscontrando ascolti eccezionali, ma almeno per ora dobbiamo accontentarci di vederlo danzare e fare i conti con le critiche dei severi giudici capitanati da Caroline Smith. Intanto la nuova arrivata selvaggia a Lucarelli ce la sta mettendo tutta per mettere un po' di pepe tra i concorrenti di Ballando, vedremo se darà del filo da torcere anche a Morgan.